Ciao ragazzi, hi guys, what's up, ho falla galera, hola chicos, oggi siamo qui in una gara aliena ragazzi La nostra zintour, ho scelto una macchina aliena per una gara aliena, quindi tutto coerente ragazzuoli Vediamo se sta registrando, ok partiamo subito, ah col contatto, perfetto, non sono io l'host E sei in one, e giustamente c'è la pull di premiare col contatto, e ora ragazzi vi devo buttare, ecco Karma è fantastico, ok ultimo, no undicesimo quasi, addirittura decimo c'è chi si ferma per aspettarmi addirittura Che galantide ragazzi, mi raccomando, uff, ho visto già in miniatura che cos'è quella, quella specie di spirale ufo ragazzi Che voi forse avete già visto in miniatura, mi raccomando ragazzi, uff che cozzo, arriviamo almeno a 1500 like Oh, 1500, like, guarda che bastardo quello, siamo quinti ragazzi, l'ologena già c'è distanza di 7 secondi, incredibile Ecco qui, ragazzi, questo è lo spirale incredibile, non so, non viene un cazzo, ok perfetto Non so quanto sia largo o altro, bene, bene ragazzi, ecco qui, qui dobbiamo andare a sbattare qua Ok, perfetto, ora warride di ufo ragazzi, mamma mia che gara incredibile, che gara, cioè non che ormai mi sia Oh cazzo la faccio qui, uff, ottimo Non che ormai ragazzi sia così sorpreso di vedere questi ufo, queste navicelle spaziali così da Da farmi una ria bocca aperta, lì stavo per schiantarmi Però comunque è sempre bellissimo vedere questi nuovi oggetti così, usando il mod menu della Playstation 3 Quindi il creatore della Playstation 3 per poi passato sulla 4 e fare queste cose così ragazzi Potrei farlo anche io però, prima cosa c'ho poco tempo e poi, e poi raga, non so quanto sia così legale Ecco, questo voglio dire Abbiamo comunque 8 secondi da Ayrton Sin, un molto celebre cugino di... Che cazzo è quella in piedi da questi bug però Porca e mamma mia Allora, raga Ora c'è l'ho lo primo Sono 3 giri e dobbiamo assolutamente regalare Io sono andato al massimo sinceramente Oltre a beh, forse il tempo perso all'inizio, raga, in quella bagare che c'è stato lì In partenza, cioè, tutti a scontrare Non capisco un cazzo, vedo UFO sotto l'acqua, sotto il mare Cioè, non capisco un cazzo Siamo comunque ancora quarti, quindi meglio alzarmi un po' Ok, perfetto Vezio intorno Cioè, cazzo ho presato intorno e non vado neanche al podio Anche perché qui nessuno sbaglia davanti Ok, perfetto Dai, dai, al massimo Scocca il terzo giro, ultimo giro, raga Almeno andiamoci a prendere questa terza posizione Porca eva, sono andato al massimo Cioè, c'era a tavoletta e siamo sempre sette secondi da Lollo Stiamo facendo una gara perfetta Ok, ragazzi, siamo indietro a questi due Al terzo e al secondo Possiamo superarli entrambi Guardate questo sorpasso Grandissimo Ottimo così, ragazzi Potremmo Vediamo se possiamo riuscire ad impensitire Lollo Gen lì Al primo posto, raga Anche se non credo Eh, ragazzi Uff, mamma mia Ha fatto un sorpasso questo Rischiosissimo Ora siamo su un ride con Devo rallentare, ragazzi Devo rallentare Ma no, faccela Ok, ragazzi, perfetto Lollo Gen lì davanti Se il karma mi aiutasse Farlo sbagliare No, non sbaglia Anzi, forse potremmo arrivare a terzi Con la scia che Con lui qui dietro ci sta prendendo E c'è spinto, ragazzi Beh, ci andiamo a prendere Il secondo posto Una gara fantastica, stupenda Di Nokia e Michael Parabens, Michael Congratulation Detto, ragazzi Congratulazioni in inglese Ovviamente E in portoghese Ragazzi, se il video vi è piaciuto E vi ho intrattenuto Ok, vi sono riuscito a intrattenere Spero 1500 policiozzi E, raga Io vi ringrazio sempre Tutto il supporto Sapete bene Quanto vi voglia bene Cerco di portarvi cose Un po' più nuove Cerco di portarvi Alcune cose Che è ancora in arretrato E, questo è tutto, ragazzuoli Un abbraccio alla vostra Fix, follow E, nice Ciao